La regione Lombardia starebbe vagliando la possibilità di consentire ai tifosi di tornare allo stadio per poter assistere alle partite di calcio già al via della Serie A il prossimo 19 settembre. Il governatore Attilio Fontana sta valutando un'ordinanza straordinaria per riaprire gli impianti sportivi da subito, consentendo la capienza massima del 25% e l'obbligo di mascherina per tutti i presenti. Stando così, Milan ed Inter potrebbero portare circa 20.000 spettatori già alla prima giornata di campionato, mentre l'Atalanta si fermerebbe a circa 6.000. L'ordinanza sarà discussa nelle prossime 48 ore e diventerebbe esecutiva da subito, salvo impugnazione del governo. No, secondo me è un'idea sbagliata perché dal momento in cui anche le scuole sono chiuse e università anche, la priorità non la darei agli stadio sinceramente. E anche perché comunque vedendo anche com'è in giro la situazione non tutti ancora hanno capito che è importante utilizzare la mascherina, non tutti sanno bene come comportarsi ancora. Quindi io non sarei d'accordo. A mio parere è una cosa assolutamente sbagliata, soprattutto in questo momento perché siamo in una situazione critica, perché c'è bisogno di sicurezza e di prendere, avere una mano ferma per le persone. Perché comunque necessitiamo di un appoggio anche dallo Stato noi e secondo me riaprire gli stadi non è una priorità. Soprattutto anche vista la situazione adesso che hanno chiuso le discoteche, c'è il dilemma di aprire scuole, non aprire scuole. Quindi è una situazione molto difficile. No, perché comunque giustamente abbiamo ancora le scuole chiuse, le università chiuse e non è la priorità aprire gli stadi. Ci si può pensare magari l'anno prossimo, ancora adesso no, perché giustamente non tutti stanno ancora attuando le misure di sicurezza giuste. Quindi vedendo anche la crescita dei contagi non mi sembra ancora il momento. Secondo te non dovrebbero riaprire? Già si sta aumentando i contagi, quindi è inutile. Sarebbe solo un danno, peggiorerebbe la situazione. Non lo so, io di calcio non... c'è da dire solo una cosa, che purtroppo hanno preso tutti molto alla leggera queste riaperture. E allora un po' di cervello da parte di tutti andrebbe bene. Se dovessero riaprire tu ci andresti? Se ci sono tutte le norme, cioè se si attuano tutte le norme giuste sì. Con il giusto distanziamento, con il numero illimitato di persone sì. Se dovessero riaprire... è una bella domanda, direi che andrei perché se lo fanno vuol dire che c'è una sicurezza da parte dello Stato, e quindi si assumono loro le responsabilità. Non lo so, sinceramente. Quale è? Sì, ma... troppa gente sicuramente, ci sarà troppa gente, quindi non credo proprio che andrò. Quindi la risposta sarà un no. Grazie. 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 Grazie a tutti